Dobbiamo pensarci, dobbiamo riflettere, ma possiamo pensarci. C'è lo strumento del referendum consultivo cittadino e ci stiamo pensando ovviamente. Andrea Verenfenning, presidente di Lega Ambiente Trieste, parla a nome di tutte le associazioni contrari al progetto della cabinovia e non esclude di arrivare ad utilizzare appunto l'arma fine di mondo, forte anche delle 16.000 firme già raccolte. Stamani nell'area del Porto Vecchio, dove dovrebbe sorgere la stazione di partenza del servizio, l'appuntamento con le associazioni ambientaliste, per meglio dire con i loro rappresentanti, ha fatto il punto su due aspetti della questione. Da un lato quella che a dire di chi ha preso la parola sarebbe l'inutilità dell'operazione dal punto di vista del trasporto pubblico, giacché le stazioni non sarebbero così vicine ai luoghi di interesse che in tale ottica vorrebbero servire, a partire dalle strutture culturali dello stesso Porto Vecchio. Non serve il Porto Vecchio, non serve neanche quelli che vanno da Trieste in calcio perché a Campo Romano non c'è nulla e non serve neanche quelli che vengono in calcio perché sono fuori dal centro urbano qui, non solo al limite. Quindi è una cosa abbastanza inutile. Non investe i soldi che ci sarebbero, questi 48 milioni, in un mezzo di trasporto urbano vero, come per esempio un tram moderno che noi vogliamo. C'è poi un altro punto, non indifferente in un contesto generale, ovvero l'atteggiamento del Comune nei riguardi di chi appunto resta critico nei confronti della Capinovia. E in tal senso la tre giorni al centro congressi non li soddisfa proprio. Noi da moltissimo tempo abbiamo proposto le alternative, abbiamo fatto le critiche e il Comune ci ha ignorato. Adesso comincia a definire le fake news, sono critiche e dovremmo discuterle. Allora quando il Comune fa una riunione per un convegno così grosso, per ascolto, e poi ci dedica l'ultima mezz'ora e le prime due ore e mezza sono il comizio dei loro esponenti, sia politici che tecnici, questo non è un ascolto, questo è preso in giro.